Adesso è il turno di Vincenzo Migliucci, a cui chiederei di accendere il video e a cui lascio la parola. Vincenzo, oltre che attivista del Forum Italiano Movimenti per l'Acqua, è rappresentante della Confederazione Cobas e sicuramente ha molte cose in comune e che comunque ci racconterà con la rete per il clima fuori dal fossile. Vincenzo, mi dai un cenno se sei pronto? Sì, ci sono. Ah, eccoti qua, bene. Nel quadro complessivo dei volti non ti trovavo. A te la parola. Sì, buonasera a tutti e a tutte. Parliamo del recovery plan che appartiene a un governo che non c'è più. Quindi il nuovo governo del Salvatore della Patria ancora non ci ha detto nulla riguardo al nuovo recovery plan o quantomeno alle modifiche che vorrà portare o meno. Quindi in qualche misura stiamo discutendo di una traccia che potrà si che la segue, potrà si di no, che potrebbe essere inverata, ma credo che il segnale tenuto conto del personaggio va in quel senso. Di certo abbiamo due ministri, il ministro Cingolani che proviene, manager ovviamente di una società tra le più disgraziate, la Leonardo, quella che fa la guerra ovviamente al mondo, ai giovani eccetera. E il ministro Giorgetti che lì si sono inventati un nome strano ovviamente eccetera, la transizione ecologica. Di là sono le attività produttive che presiedono ovviamente riguardo al malloppo che è costituito appunto dal recovery plan. Ne parliamo ovviamente in questo caso più sull'aspetto energetico, ma questo aspetto energetico non trascende l'acqua perché il legame che c'è tra energia e acqua è strettissimo. Non fosse nient'altro per i miliardi di metri cubi di acqua che si consumano nell'attività ovviamente di produzione dell'energia elettrica da fonti fossili o comunque sia da combustione. Faccio questo distinguo perché noi parliamo costantemente delle fonti fossili principali che sono il carbone, l'olio combustibile, il gas, di questo abbiamo parlato fino adesso. Ci dimentichiamo ovviamente di altre fonti altamente inquinanti, addirittura distruttrici degli ambienti dove sono nate o continuano a produrre. Vedi la geotermia elettrica in Amiata che ha distrutto ovviamente quell'ecosistema, oltre a portare ovviamente lutti e morti in quelle popolazioni. Parliamo delle migliaia di centrali a biomasse e biogasse che sono sparse su tutto il territorio e che non è sufficiente che vengano incentivate ovviamente da recovery plan perché ieri si è votata alla Camera il decreto mille proroghe e domani si voterà in Senato e ci sono gli incentivi per le biomasse e per il biogas. Capite bene come stiamo messi, ma questa vicenda è completamente pesante, presente ovviamente eccetera, quando nell'indirizzo che ci siamo dati, diciamo che potremmo accettarlo, quell'obiettivo del 2050, dimissioni CO2-0, a noi ci sembra impossibile, una grande chimera, se perdurano ovviamente queste incentivazioni, sia nel recovery plan, sia nei bilanci statali, sia nei decreti mille proroghe e quant'altro, ovviamente eccetera, ce lo scordiamo quell'obiettivo in virtù del fatto che pagheremo pegno al clima, alle future generazioni e che staremo ancora a quella data a piangerci addosso perché la scelta o si fa oggi, e io abbiamo puntato anche come battaglia del clima fuori dal fossile, nei prossimi cinque anni è già possibile determinare l'indirizzo ovviamente che porta tutto rinnovabili e non dobbiamo ad aspettare il 2030, era possibile tutto questo, di smettere immediatamente le centrali a carbone senza il ricatto dell'Enel, la grande multinazionale ovviamente dell'energia, che ci impone, se devo chiudere le due grandi centrali a carbone, quella di Civitavecchia e quella di Brindisi, oltre Fusina e La Spezia, mi dovete dare in cambio la trasformazione a gas, per questo oggi hanno fatto sciopero i lavoratori, per questo lo faranno un po' in giro dappertutto, soprattutto lo fanno le popolazioni che già a Civitavecchia non avevano accettato 18 anni fa il carbone, avevano vinto un referendum all'86% e se ne sono fregati tutti quanti ovviamente di imporlo, come ovviamente è successo anche per l'acqua. In questa vicenda ovviamente o noi ogni picciolo lo mettiamo ovviamente sulle rinnovabili e sul risparmio, e allora arriviamo ovviamente all'obiettivo della salvaguardia del sistema, del ripristino della biosfera, o quantomeno dell'avvio del ripristino della biosfera, del riguadagno della sottrazione di distruzione della naturalità che è intervenuta ormai da tempo, ovviamente a causa delle attività capitalistiche umane da questo punto di vista, oppure stiamo indietro assolutamente e non ce la facciamo a tirar su una prospettiva di interrompere ovviamente quella condizione di distruzione della biodiversità e della preoccupazione che il sistema pianeta non possa reggere ovviamente, cioè lascio ancora degli interrogativi da questo punto di vista, non ho la sfera di cristallo ma credo che non ce l'abbiano nemmeno gli scienziati, e allora noi non possiamo né governare nessuna transizione, e soprattutto sul termine transizione non ci giochiamo, o transizione significa la certezza che noi puntiamo decisamente ovviamente a quell'obiettivo del 2050-0 CO2 affinché si possa salvaguardare appunto il pianeta, oppure è una furbizia, come è una furbizia ovviamente che si lega direttamente sia al Ministero della Transizione Ecologica, sia la Green New Deal che all'avvento della Commissione Europea gestita dalla von der Leyen istituisce ovviamente questo logo e che poi non lo riempie di contenuti, perché posso mai immaginare che la Germania che ha 38 centrali a carbone e la Polonia che ne ha invece il doppio e che consuma l'80% dell'energia a carbone, possono decidere di lasciare il carbone entro 5 anni, non lo pensa nessuno, anzi la transizione che vuole governare la Germania è al 2030, ma succederà a partire dal 2038, la Polonia addirittura si pone l'obiettivo quasi vicino al 2050. Ma allora di che cosa vogliamo parlare? Vogliamo parlare ovviamente di una condizione che se c'è un autority da questo punto di vista, ci sono delle sanzioni, può darsi che qualcosa viene avanti, oppure tutto questo non avviene. Per cui nessuna possibilità di derogare, o nei prossimi 5 anni, e da subito qui in Italia è possibile, chiudiamo tutte le centrali a carbone immediatamente, governiamo velocemente la transizione di uscita anche dal gas, impediamo che passino nei tubi il gas del TAP, oppure che arrivi a Brindisi l'Euromed, l'altro gasdotto ovviamente che proviene dal Mediterraneo. Facciamo questa obbligo ovviamente affinché ci salvaguardiamo, oppure paghiamo pegno, oppure ovviamente le cose stanno messe veramente male, non ne usciamo. Ma non ne usciamo, se voi guardate, prendetevi una bolletta, quando vi arriva bimestralmente la bolletta dell'elettricità, guardate nello spettro che c'è, lo scrivono, è abbastanza trasparente la bolletta dell'elettricità, vedete dietro e scorgete da quali fonti l'elettricità viene, troverete che del 56% viene da fonti fossili, e lo sarà ovviamente per i prossimi 5-10 anni che verrà per il 56% dalle fonti fossili. Noi che non possiamo decidere da quali fonti comprare ovviamente l'energia elettrica, perché lo decidono loro, a meno che non pensiamo di cominciare in maniera diffusa, non solamente qualche decina di migliaia di utenti cittadini, ma centinaia di migliaia, milioni di utenti domestici, possano passare all'autoproduzione, è possibile passare all'autoproduzione, e insieme nei paesi, insieme nei condomini, insieme anche nelle città, costituire le comunità energetiche, e tutto questo è possibile, ci si sgancia dalla multinazionale, che sono ovviamente, le conoscete, si chiamano Enel, si chiamano Eni, si chiamano A2A, ma si chiamano Edison, sono delle grandi multinazionali, che fanno il bello e il cattivo tempo, e che solo la decisione del decreto milleproro, che ha spostato da gennaio 2022 a gennaio 2023, l'obbligo a passare al mercato libero, nel mercato libero comandano loro, sono il trust, lo abbiamo visto, come Suez e Veolia comandano nell'acqua, ovviamente eccetera, come nel gas comanda Edison in assoluto, ma anche Eni e via di seguito, noi siamo dei poveri disgraziati, l'unica nostra difesa in questo tempo, e oltre le battaglie che stiamo facendo un po' tutti quanti, è quella di cominciare diffusamente il passaparola, e quindi invito anche altre economie, a spenderci dentro le interrogazioni, i confronti eccetera, del passaggio dal sistema centralizzato, delle multinazionali, dei grandi gestori ovviamente eccetera, a quello dell'autoproduzione, che vale il sindaco, il singolo che può utilizzare anche il bonus 110%, 10% che è valido fino a dicembre del 2022, oppure passare alle comunità energetiche, poi se andate a vedere come è fatta la bolletta, per come paghiamo, ci sono due su quattro voci che compongono la bolletta elettrica, che sono due grandi furti assolutamente, poi gli altri due li possiamo ancora anche lì trovare la soluzione, il primo grande furto sono gli oneri di sistema, non li dobbiamo pagare gli oneri di sistema, perché gli oneri di sistema, lo dice anche la commissione tributaria centrale, dovrebbero passare alla fiscalità generale, invece continuiamo a pagarle in bolletta, paghiamo tutto il nucleare, e paghiamo già il deposito nucleare, quando il deposito nucleare non c'è, oppure paghiamo gli incentivi alle grandi industrie energivore, oppure paghiamo gli incentivi alle ferrovie dello Stato, cioè siamo una banda dei pazzi, non scorgiamo come cittadini, non ammettiamo la nostra autosopranità sotto questo profilo, e pensate sulle tasse, le tasse noi alla fine della fiera, oltre a pagare la tassa comunale, la tassa regionale, su tutte queste tasse c'è l'IVA, voglio dire è un assurdo totale, adesso ci stiamo mettendo mano, speriamo che lo facciamo anche per l'acqua e per il gas, in modo che diamo un'indicazione al cittadino di avere l'amor proprio e di combattere una stessa vicenda, perché sulla bolletta elettrica si scarica tutto quello che è la scienza e la furbizia di poter fare un sistema energetico che grava esclusivamente sulla bolletta dell'utente. Grazie, grazie Vincenzo per la tua, come sempre, lucida, lucidissima analisi.